Molti lo cercano sia in Europa sia in Italia, ma alla fine nessuno lo prende. La storia tra Giuseppe Bellusci e il Catania sembra piena di retroscena, dolci e amari, di divorzi improvvisi e nuovi matrimoni oltre mani, cave di Litz, poi alla fine mai consumati, per eccessive richieste, fino alle intese tra Catania e Lazio, nel passaggio proprio di Bellusci in terra romana, bloccato stavolta da gusti tecnici, non in linea con il pensiero di Pioli, allenatore dei Laziali. Lui aspetta, intanto si allena e magari ascolterà quel Genoa che, se non chiude con Campagnaro, pensa proprio a Bellusci per rinforzare la difesa di Gasperini. Atalanta e Sassuolo sono le alternative. Mercato lungo, il prezzo diventa condizio sine qua non di riuscita della trattativa, come per Bergessio, che con un tweet oggi saluta Catania. La Samp ha vinto la concorrenza della Fiorentina. Da una punta ad un'altra, come Bruno Petkovic, che pare non abbia passato alle visite mediche a Lanciano, e la società ha bloccato per ora il suo acquisto. Cosentino, intanto, con il cash di Bergessio, ripiana le uscite per Rinaudo e si butta adesso sulla spalla, o meglio, l'alter ego di Calaio. In attacco non vuole lasciare scoperto proprio quel ruolo. Così Cosentino pare abbia già individuato la punta, con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Calaio, per permettere a Pellegrino di sfruttare altre soluzioni offensive. Intanto sempre osservati speciali sia Monzon che Leto, da moltissimi club. Qualche partenza eccellente si vedrà. Giovedì intanto alle 17 nuova amichevole, spazio stavolta per molti titolari rimasti ai margini. Testa ancora agevole contro l'Equipe Sicilia, ma importante per testare movimenti e gambe, secondo il rigoroso programma Pellegrino-Ventrone.